E' un'iniziativa quella dei weekend gastronomici che vanta 35 anni di storia, 35 anni di inverni e stagioni autunnali passate ad assaporare le ricette e le eccellenze territoriali della provincia in strutture di primaria importanza ad una proposta calmierata nel prezzo e che permette di girare e conoscere il nostro territorio ricco di tante materie prime di alta qualità. Da 5 anni a questa parte con grande successo di pubblico per colmare un vuoto stagionale ed aderire alle tante richieste dei buongustai sono stati creati i weekend gastronomici da mare. Quest'anno dal 14 giugno al 20 settembre nei 14 ristoranti aderenti tra Fano e Pesaro. L'iniziativa è stata presentata dai vertici di Confcommercio questa mattina in uno dei ristoranti fanesi aderenti all'iniziativa. Un'offerta che va sia ai residenti della nostra provincia ma anche ai turisti anche perché viene offerta la possibilità dal 14 giugno al 20 settembre di apprezzare la gastronomia locale in 14 ristoranti della costa ad un prezzo calmierato, un prezzo prefissato che è di 25 euro. Quindi è una buona opportunità per residenti e turisti di conoscere il territorio apprezzando la ristorazione della nostra provincia. Altra nota distintiva rispetto all'iniziativa invernale è quella che i ristoratori hanno deciso di dedicare due serate al mese scegliendo tra giovedì e domenica. La manifestazione è stata possibile realizzarla grazie al contributo sostanziale degli enti bilaterali provinciali del commercio e turismo e della Carifano Gruppo Creval. Assolutamente sì, noi come Carifano del Gruppo Creval siamo una banca del territorio e tutte le iniziative che ci paiono meritevoli come questa dei weekend gastronomici non possiamo non sostenerle perché quello del turismo enogastronomico è una delle facilitazioni più importanti del nostro meraviglioso territorio.